ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale wrestling gamer continuiamo con personal teleportable per pc bene allora ultimo episodio siamo usciti dal tartaro entrati usciti dal tartaro avevamo finito diciamo tutto il terzo blocco e c'è stata diciamo una scomparsa di una ragazza nella nostra scuola che si è l'hanno diciamo trovata davanti ma che era tipo di stato catatonico e abbiamo deciso di indagare e niente quindi adesso stiamo per arrivare a una piena dobbiamo abbiamo finito quasi le indagini che non c'è stato niente di che in realtà ma parleremo con il nostro gruppo e vediamo che cosa hanno scoperto io direi di cominciare subito questa nuovissima puntata buona visione eccoci stiamo qui e ora che facciamo andiamo lì usciamo ecco qua un'altra zombie che ci stiamo avvicinando alla settimana alla settimana alla luna piena andiamoci a fare un giro qui al solito posto andiamo in sala giochi passiamo di qualche cosa abbiamo aumentato coraggio buono sabato 6 ti ricordi che hai dei piani per stasera scuola ok allora dato che ah ah c'è lei oggi è sabato andiamo nell'aula ah per noi ma che vedi a posto non mi ricordo c'è sempre questa si ho sentito lei che dice no no scusami voglio andare a vedere oggi che giorno è sabato non mi ricordo se c'è stava una ragazzina sì c'è stava eccola qua andiamo ah quid cook burger certo andiamo ok andiamo buono buono beh bello essere colpa tua beh certo il ragazzino è piccolo perché voglio incubare Nooo, vuoi piangere! Prova anche a macca eh, dai, l'esempio è mio! Nooo, perché... Dai eh! Secondo livello! Con la bambina al santuario che piange... Ciao, è stato un piacere il bambino! Allora, andiamo! Qual è il tuo ruolo? Io ancora penso che sia una buona idea! Come potresti essere freddo di ghiacchi, ma non essere freddo di questo? È facile essere freddo da qualcosa che non puoi vedere. In realtà, sono più preoccupato di cose che posso vedere. Ma... Un grande problema! Quindi è un po' pericoloso! E' un'avventura! 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 Ecco qua! Un'avventura! Un'avventura non è comunque... Un'avventura! Ah... Un'avventura! Volevo? Volevo? E' assurdo Che percorso Volevo, Shinjiro Sì, sei anche da Gekko-hai, non ti? Volevo creare gli occhi nella parte della tua head Sono scappati i ragazzi Sono andati a via ridendo Oh man, Senpai E' fantastico Ehi, mi ricordo te Come va bei Non c'è a tutti i dottori No, non è stato lui Eh Ehm No, non c'è 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 Grazie Ehm, molto grazie No, non c'è Volevo parlare No, non c'è No, non c'è No, non c'è Eh, andiamo bene Ragazzi Mancano due giorni alla luna piena Allora Ehm Mh, hm, 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 hm Ma è fascino sempre Madonna che zombie Domenica Oggi non si va a scuola Chi mi chiamerà? Eh, appunto Ah, sì Accetto l'offerta? Vabbè, accettiamo l'offerta Si Si sta facendo buio Decidiamo di tornare Dai, ragazzi, che domani in una piena ci sarà qualcosa Eh, in giro Affari miei Studiamo E vai, la luna piena Vediamo chi ci sta Eh, andiamo a parlare con lui Il professor Ekoda Della scomparsa di Fuka Yamagishi Oh, Mitsuru Senpai Why are you here? E' sempre si sembrava così frazzata quando mi ha dato il cuore E poi... Ho capito E' un student honore Ma... Inoltre, ho conosciuto quattro botone per mettere. E noi stavamo solo con lui quella giornata, anche! 29 settembre, abbiamo preso Fuka al gioco. E abbiamo preso la porta da l'interno. Cosa? Hai preso la porta? La notte, Maki è tornato a scuola solo. Lei è assicurata che ci saremmo in problemi se Fuka commette il suicidio. Ma non è mai tornato. E la prossima giornata... Lei è trovata in grado per la porta. I went to the gym to let Fuka out, but the door was still locked, so I opened it and went inside, but she wasn't there. We all freaked out. Starting that night, we went out looking for her, but every night, another one of us went missing, and they each ended up like Maki. I see. By the way, Mr. Ikota, all this time, you've attributed Yamagishi's absences to illness, but in reality, she was missing. What was your intent? I was thinking of the students of you children may not understand, but we have to consider the future of everyone affected. You mean you chose not to report this to the police for the good of the class? It was in her best interest. I wouldn't want her records to be stained by something like this. So to protect your career, you ignored your responsibility as a teacher. How despicable. I didn't. About your friends. Did you notice anything unusual before the incidents? Anything at all? They all heard a voice. A voice. A creepy voice. Ah, come quella ragazza, sì, certo, l'aveva sentito quel giorno in cortile, ci ricordiamo. Right before each of them went missing, they said it was calling their name. Oh, man. Oh, senpai, could it be? It's them. No doubt about it. Until now, there was no way of knowing how or why some people are conscious during the dark hour. But it's the voice. It draws them in. This whole thing has made me realize they're clearly targeting humans. Shadows are the enemy of mankind. Stay at our dorm tonight. It's the safest place. If you hear the voice, tell us immediately. And don't leave the room no matter what. If you can do that much, you should be okay. Don't worry. Yamagishi should be all right as well. Fuka. Okay. Iori and Takeba, too. We'll meet after school in the student council room to discuss tonight's operation. T-Tonight? Tonight. Tonight. We're going to rescue Yamagishi. If my guess is right, she's still inside the school. Understood. Wow. Fantastic. Hmm. That's something. Cool. Tonight, we will infiltrate the campus. Our objective is to rescue Fuka Yamagishi. I don't get it. Is Fuka inside the school? And why at night? At midnight, this place turns into... Exactly. That's how Yamagishi wandered into Tartarus. Then, ever since Fuka got locked in the gym, she's been stuck there? That's correct. Si fa' interessante, ragazzi. But that was ten days ago. Eh, rimasta là. That means... Not necessarily. We can't jump to conclude this. No, infatti. Tartarus only appears during the dark hour. So what about the rest of the day? Eh. Now that you mention it. This is only a theory, but I think time may function differently with respect to Tartarus. So, even though it's been ten days for us, perhaps only ten hours have passed for her. It's possible she's still alive. Wow. You think so? Uh, but the dark hour is pretty brutal. We could barely handle an hour. How's she gonna last ten? That's true. And even if she's still alive, we might not be able to get to her. Are you just gonna let her die then? I have an idea. Let's try to enter Tartarus exactly how Fuka did. We'll go to the gym and wait for midnight. That's the quickest way. Is that really gonna work? Honestly, I have reservations. If something goes wrong, you could all end up lost. But I won't stand by and do nothing if there's a chance we can save her. I'd never forgive myself. If you guys don't want to go, then I'll go by myself. Senpai? All right. We're aware of the risks, but we can't just leave her there. Giusto. And we won't know until we try. Giusto, ovviamente. We get to sneak into the school. In that case, I know just what to do. I know just what to do. Bene, ragazzi, si fa molto più figa la situazione. Sì, mi piace. Sala da comando del dormitorio. Sono tutti pronti per andare a salvare Fuka yamagishi. This is a bit worrisome. I can't get a hold of the chairman. I guess we can handle it ourselves. There's one problem, though. Without the chairman's help, I'm not sure how we can get inside the school. No need to worry. I've got it all set to go. Set to go. An explosive? All right. I'll let you handle this. We don't have time to waste. Let's go. Ci voleva adesso l'altro persona, quello da prestation door, che ci sarà stato anche il filmato. For real? Nah. All I did was unlock a door. Ahaha. Molto semplice. Liceo Geocooker 2P. We got in no problem. Is that really something to brag about? So you unlocked it earlier. Très bien. Oui. No time for compliments. Let's go. What's the big deal anyway? Très bien. What is that? Lousy seniors and their lousy French? Hmm. Vediamo che succede. Aula. 2F. Can we turn on the lights? No. Oh, you scared? No! Stupé. Stop calling me! Quiet. It's better if we leave them off. They cut the power at night anyway. I don't like sneaking around. I miss you. First, we have to find the key to the gym. Akihiko and I will check the janitor's room. You three check the faculty office. After that, we'll meet in the main hallway. The faculty office? Hey, maybe we'll find some test questions. Maybe I should go to the faculty office too. Are you planning something unscrupulous under my supervision? If so, then expect to be severely punished. It was a joke. All I meant by interesting was that there's a higher chance of finding the key there. Enough with the excuses. Let the yori, you're coming with us. Let's go. Sala docenti. Ando sta la docenti? Sì. Ah, ok. Stay sereno. Ah, vante arrivo. Ah, sì, si vanno più vicini. Sì, c'è un... Ah, comunque... Sì, c'è un... E chi c'è sta? La custode... De notte? Peccato per inserire... Sì. Ah, no. No. Che carina che sei. Ah, è non divertente. Allora, sarà docenti, stande qua. Eccolo. Avete cercato la chiave, l'abbiamo trovata? No, no. Palestra, magazzino, palestra, obitorio. Ah, ah. Ah. It looks shorter than that. Hey, mind if we borrow this? Eh, io ho letto a destra. Ok, let's go. We're supposed to meet... Corredo principale è questo. L'audio principale, sì. Wait a second. And remember how I accidentally screwed up on the monorail? Give me a chance to make up for that. Oh, come on. It's not always about you. Besides, you didn't accidentally screwed up. All right, Junpei, we'll give you another shot. Sweet! What's wrong, Yukari? You don't want to stay behind with Mitsuru? Um, no, it's fine. Let's go. Quindi, che siamo? Io, Junpei, a... A Gheri, là. A Gheri. E dai, eh, vediamo dove c'è sta. Oh, intanto, in una stanza vuota del dormitorio. Io... Infatti sì. No. L'hanno chiamata, pure a questa. Ma vedi, cioè, questa l'hanno lasciata da sola, sta poraccia. Detto la squala ormai diventa un tartaro, il tartaro durante l'ora... Eh, c'è una... Um... We still haven't heard back from them. The transceiver sensitivity is set to high, too. Oh, yeah. That girl, Natsuki? I hope she's okay at the dorm. Unfortunately, no place is completely safe in the dark hour. But we couldn't possibly bring her here. And one of us staying behind was out of the question. Yeah. Hmm. But we're all here for food. So you can hear me. This is Mitsuo. I've confirmed your position. You're higher up than I expected. You're barely in... Is everyone alright? Yeah, I don't know. I know it's separate. Akihiko. Come in, Akihiko. Is he out of range? I'm starting to get worried. Interessante. Uhuhuhu. System Shock. Sembra che tu abbia perso conoscenza a quanto pare di trovare il tartaro. Ma non vedi né Akihiko né Junpei. E non ricevi nemmeno vinsurdo. Are you awake? Eccolo. This is the first time we've spoken outside of your room. Ah, perché sei qui? I told you, remember? I'm always with you. But we don't have much time to talk. Tonight there is more than one ordeal you must face. You should hurry. She's waiting for you. You guys will need her. Ok then. I hope we can speak. De questa ragazza che dobbiamo cercare. È interessante. Ok. Tutto bene, troppo lontano, riesco a suppor... Uh, ti aspetta chi... Mh, collegamente è per... Eh, so. Allora, visto che io sto da solo qua, eviterei combattimenti. Tanto c'è questo qua. Che interessante. Quello che metto il deteriorato. Vabbè, combattiamo qua. Eh, prima che è solo uno. Eh, prima che è solo uno. 85 punti di esperienza. Eh, beh. Allora, ragazzi. Con l'elemente deteriorato. Dimmi dove ti tr-risponsù. Ma dove mi trovo? Perché sono qui? Qualcosa... Ah, la voce... Mi devo già curare. Medicina. Eh, ok. Allora si può combattere, dai. No, vabbè. Ce lo posso credere. Vabbè, soppibbe, dai. Posso combattere. Ah, no. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. 50 punti di esperienza. Bene. E meno così si passa da livello. Allora, non vanno a combattere molto questo. Vabbè. Livello 14. Cioè, ma come si fa? Ok, qualcuno risponda. Quindi vuol dire che c'è qualcuno qui con noi. Ok. 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 Ah, ma fai zio. Fa sto burino. Ok, è solo che non fa lo scappo da volantare. Un buono. Ok, verè, ancora non lo rivedo, che sta buon' assolutamente. Noo. Ma dove è sbogato? Ma vabbè, chi è? Ah, è buono dei buoni. Vabbè, pipa Allora, oggetto Mi piace questa parte, che siamo da soli Non sappiamo a quale livello del tartaro stiamo Ounque è il secondo blocco ancora Un po' succede qualcosa Ecco le... Ehi, qui è lui E noi stavamo preoccupati di te Non credo che dovremmo entrare in Tartarus in questo modo ancora Oh no Ho sentito una voce mentre stessi qui? Ehm... Chi è questo? Sei umano? Ecco la... Sei Fukuyamagishi? Si Wow, sei da vivere! È ottimo! Non lo scopriamo Junpei qui E' piaciuto che sei ok Vieni con noi Grazie mille Anche che abbiamo fatto la decisione Vediamo se posso cont... Onde siamo? E' stata a scuola E poi... Sì, è una storia lunga. Vi raccomando dopo che ci siamo fuori. Qui c'è? Sì, qui c'è? No, bene. Alla sento è statica. Oh, sì! Hai avuto alcuni monstri? Sì, ci sono strani creature in qui, allora. Ci sono stati semplici. Ci sono stati semplici. Sei vero? C'è possibile? È difficile di descrivere, ma... ...i posso sentire dove sono. C'è un evocatore. Ha il stesso potere come Mitsuru. Potrebbe anche più forte. Dopodiché la persona di Mitsuru è più orientata di battaglia. Persona? Guarda questo. Ma... Pensi di questo come un carico successo. Non è davvero una scuola. Allora, partiamoci qui. Nel Tartaro è un corridoio da cui si può vedere fuori. Wow! Non ho mai visto così brillo. Nè. Un'esercizio indica che le scuole sono affettate le fasi della luna. Ovviamente, lo stesso può essere detto per gli uomini. Sì. Si. E' già. Era piena. E' già. è buona vera che miro è buona vera Io non so che avessi capito, ragazzi, sennò voi lo dicevano da prima, se era possibile, ma... Uuuuh, e che so... Nel frattempo, all'ingresso del tartaro, Mitsuru e Yukari sono in difficoltà contro l'opera gigante, a parte all'introviso. E' interessante. E' interessante. Oh, che sta a fare? Niente funziona! Mitsuru! Eccoci. Che in mondo? Akihiko-senpai! Abbiamo bisogno distrattare queste ombre, in qualche modo! Eccoci. Io so solo come farlo. Ehi! Se c'è una combina che vuoi, lo darò a te! Si attiva. I attacchi normali non funzioneranno su queste ombre. Ho qui intorno al ladio, dall'esterno del tartaro. E' ma questa che è? Più, Yama-san! Scusate, fuori da qui! È pericoloso! Io... volevo dirti... Scusate... Moriyama-san! Ho bisogno di proteggertela! Ecco. Non vediamo niente, mannaggia, questo mi dispiace. Oh! Wow! Fantastica! Persona? Sì! 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 Ehm... Ecco, mi scevoli sova. Just as I thought. Mitsuru, let her take your place. Chi è? Mitsuru? A casa devi andare. Quindi mo sono due. I'll try and find out the enemy weakness. Just let me know where! Eh, adesso... Buona scelta! L' enemigo è sotto! Non penso che è per questo ragione Allora è ghiaccio Vale E' ghiaccio No! E' vento Wow Sei ok? Sì Allora! L' enemigo è sotto! No! Ma che cacchio stai? Mannaggia, almeno sbagliato puzzante Allora... 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 Allora, okay... Beh! Ah... Ah! Hmm... Oh, è il resto? Ah! 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 Vediamo questo Ok 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 Quindi non è Può essere questo Sì E dai Quindi Fuoco e ghiaccio Allora Alleato Alleato E Non 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 Buona notte! L'invito! Ok, abbiamo capito, quindi adesso quello è ghiaccio E' il modo! No, non puoi Dai che sono buono E' il namo Non è ancora morto sto balordo Andiamo qua, sei tornato a essere luogo No Dai Che grande Oh, 1830, che è successo? Si è impazzito Quello 16 Ma io devo passare due livelli, non ce posso vedere ragazzi Tarunga, buono Mazzio al ventunesimo Terzo occhio Rivelo 32 Ah, Mazzio Oh, intera, intera Mazzio Siamo riusciti a salvare Buka Ripensi al ragazzino misterioso Apparso prima I suoi avvertimenti sembrano ben più semplici Sogni Sei a pezzi e non riesci a rifletterci con chiarenza al momento Non appena torni a dormitori decide di riposare Buonanotte Mi sento a pez Stai sereno Oddio c'è gente che mora nel dopo Ma io non voglio di nessuno Non ho ancora deciso Bene beh ragazzi anche questa puntata di persona di apporto per pc è conclusa e abbiamo salvato quell'altro ragazzo ragazza insomma che stava all'interno del tarto addirittura per dieci ore ed è riuscita cosa sto facendo scusate è sfuggita diciamo alle grinfie delle ombre ed è un'epota che ti dice anche lei c'è una persona e ci ha salvati e è stata molto interessante mi è piaciuta questa puntata tutto questo insomma quello che è successo e bene la storia si infittisce sempre di più hanno scoperto i nostri amici che soltanto durante il momento della luna piena appaiono le ombre grandi io pensavo che lo sapessero sin dall'inizio invece a quanto pare no e quindi adesso hanno scoperto anche questa novità bene sempre più ufficio come sempre se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale wrestling game ciao e alla prossima